Oltre agli anticorpi monoclonali da somministrare presso il Covid ospita all'agropolese, un'altra richiesta è stata posta all'attenzione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, da parte del primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, riguardo l'apertura delle sale operatorie Covid che all'interno del reparto speciale sono pronte e attendono di essere utilizzate, visto che in provincia di Salerno il Covid ospita all'agropolese è l'unico presidio che le possiede e potrebbero andare a coprire un altro gap importante per i malati Covid che necessitano di interventi durante la loro permanenza nel Covid Center. Sono le sale operatorie già pronte, attrezzate, che tu le hai viste, eccetera, non c'è nessun ospedale che ha le sale operatorie Covid, se le fai aprire non c'è più problema. C'è solo al Don Bosco, come lei già sa, però spesso mi è capitato che pazienti miei con problemi chirurgici oltre il Covid c'è difficoltà di ripertare, perché il Don Bosco, come lei già sa, c'è la chirurgia e non c'è la terapia in terapia. No, questa è una cosa che poi valutate voi. Qui però la risposta del presidente De Luca non è stata soddisfacente, vista la problematica delle assunzioni del personale sanitario, tasto dolente che in questo lungo anno pandemico è stato più volte discusso. Dunque per il momento la città di Agropoli potrebbe vedersi accontentata per quanto riguarda la richiesta degli anticorpi monoclonali, mentre le sale operatorie previste per gli interventi sui pazienti Covid dovranno ancora attendere tempi migliori.